Bentornati a Pillole Astronomiche. La volta celeste è divisa in 88 costellazioni, ma sicuramente 12 sono quelle più conosciute, cioè quelle che riguardano i segni zodiacali, come gemelli, scorpione, vergine, pesci. Le costellazioni zodiacali sono famose perché sono quelle attraversate dal sole durante il suo apparente percorso nel cielo. In realtà c'è un'ulteriore costellazione che viene toccata dal sole nel suo cammino che si chiama Ophiuco, il serpentario. Si chiama così perché viene rappresentata come un uomo che regge un serpente, per la testa e per la coda. Si tratta oltretutto di una delle costellazioni più vaste della volta celeste. Il sole attraversa l'Uphiuco fra il 30 novembre e il 17 dicembre. Le costellazioni zodiacali quindi sono 13, non 12. Ma allora perché l'Uphiuco è stato accantonato? Per alcune antiche popolazioni il 12 era un numero con significati importanti. Altri invece avevano adottato, per misurare il tempo, un calendario lunare, cioè basato sui cicli della luna, che in un anno sono circa 12. L'orbita che la Terra fa attorno al sole è di 360 gradi, molto meglio divisibile in 12 blocchi da 30 gradi ciascuno. Infine 12 si accorda molto bene con il numero dei mesi dell'anno.